Musica Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Dove sono Claudia e mia madre? Eravamo tornate col denaro Ci hanno seguita Ebbene? Mia sorella sa come si impugna un coltello E sono pronta a rifarlo se serve Parliamo di una vera uditore Finalmente siete tornati in voi Alla buon'ora dico io Alla buon'ora dico Alla buon'ora dico